Grazie all'Associazione per Curinga per questo riconoscimento, ne sono davvero onorato. Grazie soprattutto per il lavoro che svolgete da 20 anni per promuovere la nostra Calabria e per sostenere una cultura meridionalista che oggi più che mai è la chiave di volta della ripartenza. Lo ha detto il segretario generale della CIS Luigi Sbarra nel corso della cerimonia della consegna premio Curinga Città del Mondo assegnato ogni anno a personalità calabresi che nel corso della propria esperienza professionale ed umana si sono distinte per il profondo attaccamento ai valori della propria terra come aree interne e sottoutilizzate nella capacità di colmare quei divari occupazionali, economici e infrastrutturali che feriscono la giustizia sociale e frenano la crescita non solo del Mezzogiorno ma del Paese e dell'intero continente ha sottolineato il leader CISL premiato per il suo impegno a favore del lavoro per questo vorrei dedicare questo premio alle tante persone che ogni giorno si impegnano ad ogni livello a portare avanti questa buona battaglia per la coesione e l'unità nazionale. Le grandi priorità che oggi abbiamo davanti possiamo sintetizzarle nella necessità di aumentare le attribuzioni a pensioni per fronteggiare il carovite e l'inflazione, rinnovare tutti i contratti pubblici e privati, tagliare le tasse sul lavoro, cambiare le pensioni, rafforzare l'occupazione, investire sulla sanità pubblica, darsi un grande piano nazionale per la formazione e la crescita delle competenze. Oggi abbiamo un'opportunità decisiva e imperdibile, quella del PNRR che va messo a terra in modo completo e veloce per spezzare le diseconomie delle nostre aree ed eppoli. Dobbiamo lavorare coesi, pancia a terra per realizzare infrastrutture materiali, digitali e sociali per connettere la nostra Calabria, il nostro Mezzogiorno al continente e renderlo finalmente uno strategico collettore euro-mediterraneo di interscambio culturale, commerciale e economico. La parola d'ordine è insieme, come è stato negli anni della programmazione negoziata, come deve essere oggi, di fronte a opportunità irripetibili che devono vederci tutti remare nella stessa direzione, ha concluso Sbarra.